mi vedete mi depurare un marra perchè sono mezzo scarduzzi scusami signor Bionchini eh eh quello è te li ripetono uomo guarda questo picchiocchietto stai eh 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 con le ascelle al tolla sudore perchè te li vedi stanno giocando a pallavolo volo i tiscali cercare una via d'uscita si si non si arrende la B1 ma 7 punti da recuperare sono tanti comunque basket cominciamo proprio bene piccolo allarme Dinamo si salva soltanto la Russo ma a fatica mamma mia che notizie che notizie entusiasmanti che brividi peccato che non si veda eh cercando un'impresa mai riuscita gli allenatori Pellegrini e Contini spingono Maludrotto a Osaka ah di mattina diretta Rai Sportsat il mondiale WBC dei Gallo contro Asegawa Egidio Pellegrino dice è un peccato dover affrontare questa sfida lontano dalla Sardegna nessuno ha mai vinto in Giappone vorrà dire che ci proveremo noi e Armandino gli ultimi consigli a Maludrotto Maludrotto eh tu devi finire ma soprattutto tu devi cercare come? non devi cercare ieri fair play in conferenza a Stambo ma mica la cerca non fa bene tutto costa più degradabile tu devi cercare ti devi cercare e ti devi cercare e sai mamma non devi far andare fuori di testa e ci sbagliare poi quando non serve tu devi cercare le castiglie di sgalletta Malud boccita il corpo su poi fai da cattare una ghettum morta la macchina ricorri a qualsiasi cosa Malud mi raccomando la chiesa Malud non no 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 Ciao!